Abbiamo pensato le parole del fatto che erano 500 erotti giorni che non vincevamo quando stavamo subendo un po' alla fine il ritorno della Bulgaria. La verità è che abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, splendido, sbagliando qualche pallone di troppo, ma per il coraggio di giocare in velocità, cosa che non deve mai preoccuparci. Possiamo sempre recuperare se giochiamo in velocità. Secondo tempo, in realtà, siamo partiti da un più 15 rispetto alla qualificazione. E questo, secondo me, è un po' influito sulla testa delle ragazze, però anche con due time out abbiamo ricordato l'obbligo morale di vincere questa partita per avere la forza di presentarsi in campo internazionale come una squadra che non è sempre gregaria, che non è sempre di rincorsa, ma una squadra che vuole salire. Penso che abbiamo dimostrato che abbiamo la potenzialità per farlo. Ma adesso sarà una bellissima avventura. Noi vogliamo vedere come siamo a un livello più alto, come abbiamo detto anche altre volte. Sarà una sfida interessante, sarà una sfida che vogliamo porre alla mano internazionale. Dobbiamo cercare di cominciare a scalfire questo muro che ci separa dall'alto livello.